Giovani ed esperte, un bel mix? Sì, sicuramente un bel mix e penso che sia per tutti noi più giovani la loro presenza più grande sia un po' come delle mamme, ci danno sicurezza, ci permettono di prendere spunto dalla loro esperienza, è una bella cosa, una bella presenza. L'obiettivo sicuramente è quello di fare il meglio possibile, sia dal punto di vista individuale ma anche per tutta la squadra, proprio perché la squadra, come hai detto tu, è un bel mix, quindi ritrovarsi dopo tanto tempo a fare la mamma rispetto alle altre è anche un nuovo momento da vivere e sono anche molto contenta, quindi speriamo di raggiungere un obiettivo importante. Ecco, fare un bel campionato, poi insomma vedremo nel durante cosa succederà. Sono fiduciosa in questo campionato, penso che la squadra sia forte abbastanza, siamo cariche, vogliamo giocare. Rosario Braia ha tantissime esperienze ad alto livello, quindi sicuramente siamo contentissime, abbiamo questa possibilità di avere un tecnico che è insomma completo da tanti punti di vista, quindi andiamo cariche. A me piace, mi trovo bene, sono a mio agio, è bello, ha esperienza, si vede, gli piace quello che fa, cerca di trasmettercelo in tutti i modi.